Per scoprire i tesori conservati all'interno del Museo Archeologico, il Comune di Pordenone organizza una serie di eventi presso la splendida cornice del Castello di Torre. Ce ne parlano l'assessore alla cultura Alberto Parigi e il presidente dell'associazione Il Castello, Alessandro Casagrande. Il Comune di Pordenone sta cercando di valorizzare i propri musei. È arrivata una nuova responsabile del Museo Civico d'Arte del Palazzo Ricchieri e qua al Museo Archeologico partono delle visite guidate gratuite. E poi le attività sono anche altre, presentazioni di libri, persino un concerto sulla terrazza. È tutto organizzato dal Comune con l'associazione Il Castello, con Spichisi e con Eopolis. Le visite guidate peraltro sono gratuite. Attività verranno fatte anche all'esterno con laboratori didattici per grandi e piccoli e altre visite guidate per scoprire il parco. E poi quest'estate il palco che verrà piazzato qui con tanti concerti, teatro, musica, intrattenimento. L'associazione Il Castello di Torre che rappresento ha organizzato una serie di iniziative per valorizzare il territorio di Torre, in modo particolare il castello dove all'interno c'è il Museo Archeologico e tutta l'area circostante. Partiremo domenica 5 con la prima visita guidata alle ore 16.30. Per le prenotazioni potete fare riferimento al sito del Comune di Pordenone e anche per tutte le altre iniziative che verranno svolte durante il periodo estivo. A chiusura ci tengo a precisare che ci sarà una visita guidata in doppia, domenica 18 settembre, organizzata in concomitanza con la Giosta dei Castelli.